Per ora benissimo, sono arrivata in realtà da poco, ho già fatto delle interviste e mi sono un po' sciolta perché effettivamente un po' di agitazione ce l'avevo. Sono contentissima di essere qui e per me è sempre un onore poter cantare davanti a chiunque. E non me l'aspettavo neanche di essere qui in realtà, quindi è stata una sorpresa e sono contentissima. Anche perché ho visto che ci sono tantissime cose per i bambini, sì, un sacco carino. Secondo me è molto molto utile per un ragazzo giovane che vuole intraprendere una qualsiasi carriera sia nella musica che nel cinema. Anche perché il confronto secondo me porta sempre ad una crescita in qualsiasi ambito e soprattutto se una persona si confronta con un'altra persona che è appassionata della stessa materia è bello perché magari puoi scoprire delle cose di cui non eri a conoscenza o puoi dare dei consigli. Comunque secondo me è ottimo, nel senso scambiarsi delle idee. E possono nascere anche delle amicizie che poi fanno nascere delle collaborazioni. Cioè questo l'ho visto quasi in tutti gli eventi in cui sono stata. Alla fine c'è sempre uno scambio reciproco tra le persone, quindi è bellissimo. Mentre ero magari all'interno della scuola di amici, lì spesso noi praticamente cantavamo quasi sempre le cover e comunque da interprete cerchi sempre di dare un determinato significato ad ogni parola, al testo, a dare delle immagini e quindi a me tanto mi aiutavano i miei genitori. Cioè io li rivedevo tantissimo nelle canzoni e questa cosa mi dava tantissima forza e riuscivo a farmi emozionare e quindi far emozionare anche gli altri. E poi invece posso dire anche che ho trovato tantissimo d'aiuto anche Piccolo G Giovanni che lui scrive, io mi faccio aiutare da degli autori per scrivere le canzoni, lui invece scrive le sue canzoni da solo e quindi spesso io mi ritrovo con lui a vedere come si crea una canzone partendo dal testo, vedendo come magari lui cerca di trovare le parole perché come ho detto già anche prima, secondo me non è tanto semplice riuscire a dare delle parole esatte ad un pensiero che noi abbiamo e magari si possono usare delle parole sbagliate quindi io penso anche che in questo ci sia bisogno di tanta pratica ed è per questo che io ancora mi faccio, cioè essendo entrata in questo ambito non da così tanto tempo mi sto dando del tempo per appunto anche io poi un giorno scrivere una mia canzone scritta da me perché ce l'ho nei pensieri e perché mi piacerebbe tantissimo. Ecco però come dicevi anche, interpretare... Esatto, non è facile per niente, tanto è vero che i miei compagni che hanno sempre cantato cose scritte da loro per esempio mi confidavano che loro si trovavano tantissimo in difficoltà perché non era un testo scritto da loro, quindi loro dovevano trovarci qualcosa di personale nelle parole degli altri e quindi rimaneva più difficile quando per me era la cosa più semplice nel mondo in confronto quindi è stato... anche questo è uno scambio alla fine Cerco di rivederci una storia che mi appartiene, una cosa che ho già vissuto o delle immagini che ho già... che ho presenti in mente perché solo così riesco a dargli veramente un significato non riuscirai mai a vederla con gli occhi di un'altra persona per forza di cose ci devo mettere una storia che mi appartiene perché così riesco veramente a far emozionare le persone e a emozionarmi in primis anche io Probabilmente adesso è anche abbastanza complicato riuscire a lasciare un'impronta importante Io penso che... forse non sarei neanche la persona adatta in questo momento per dare un consiglio del genere, per poter parlare anche per gli altri Penso che serva del tempo e una tale maturità per poterlo fare Però secondo me... un consiglio che posso dare ai ragazzi è di... tenersi strette per esempio le persone... anche in quest'ambito artistico di qualsiasi genere tenersi strette le persone che veramente ci vogliono bene e che ci stanno intorno e... perché sono quelle che comunque rimarranno sempre con noi che non... questo me ne rendo conto anche io personalmente adesso e... di tenerci strette le persone che veramente ci vogliono bene di non andare a cercare chissà cosa in giro e... e niente però non mi sento... non mi sento così all'altezza di poter veramente dare un... di poter parlare per altri per me è indispensabile ritrovarmi sicuramente nelle parole che sto cantando come dicevo prima cioè... diciamo... personalmente la chiave la trovo in quello non la trovo in nient'altro è quello che mi fa... che mi fa... che mi suscita qualcosa quindi per me è indispensabile ritrovare una mia storia all'interno di quelle parole ciao ragazzi del Giffone e Giffoners vi mando un bacione grazie